Questa è l'ultima coppia, questa è l'ultima coppia. Possiamo finalmente portare a termine un'operazione per il ripristino della legalità. Lo Stato si è assentato da alcune zone, è stato veramente lontano in alcune zone di Roma. Oggi riaffermiamo il primato delle istituzioni, sempre a fianco dei cittadini onesti, che hanno il diritto e il dovere di sentire le istituzioni, la polizia locale, le forze dell'ordine vicine. E noi siamo qui per questo. Quante forze dell'ordine sono impiegate in questa operazione? Di polizia locale circa 600 uomini.